buonasera a tutti appassionati di storiografia militare grazie per esservi sintonizzati nel canale di venessia 90 eccomi di nuovo qua ritornato vivo e vegeto dopo un lunghissimo periodo di assenza i motivi li sapete benissimo ve li ho parlato una marea di volte ma quando l'occasione riesco a fare un video un video che ripeto non mi sono preparato però voglio riportarvi un argomento questa sera al quale ne ho un argomento che ho citato parecchie volte nei miei video non parlerò specificamente di questo però farò una piccola descrizione generale perché perché un annetto e mezzo fa l'amico guido montalcini un utente carissimo iscritto al mio canale mi dette una mano a recuperare questa splendida opera dal titolo alpi inviolabili trattasi di un libro che descrive il vallo alpino fino al periodo della guerra fredda la guerra fredda sapete benissimo che il contesto andò dal 1945 si può dire fino al termine della seconda guerra mondiale fino al crollo dei regimi comunisti del centro europa più all'abbattimento del muro di berlino che vide poi la riunificazione delle due germanie germania est germania ovest e la dissoluzione dell'unione delle repubbliche socialista sovietiche l'unione sovietica che ormai dal 1917 con la rivoluzione di ottobre era il il terrore il terrore della rivoluzione comunista per quanto riguarda il blocco orientale europeo l'amico guido montalcini mi ha dato una mano a recuperare questo libro perché divenne introvabile appena che insomma fu reso disponibile nell'edicole e nell'edicole sotto casa mia questi sono libri che sono difficili da recuperare non perché l'edicolante mio di fiducia sia un bastardo tutt'altro ma perché insomma sono opere che sono rare di solito è difficile trovare gente degli scrittori dei ricercatori che si dedicano dedicano del tempo e del lavoro ad opere di questo tipo e il libro è scritto da mauro minola e ottavio z e descrive e descrive tutte le opere del vallo alpino dell'ittorio il suo nome originale che vanno dalla zona del confine occidentale italiano con la francia fino al confine orientale con l'allora ex jugoslavia confine il confine orientale che ha subito diversi cambiamenti nel corso del novecento e ve ne ho parlato parecchie volte perché ci furono diverse modifiche di confine fra il 1918 ed il 1947 per non parlare poi del 1991 quando iniziarono le guerre che portarono la dissoluzione della ex jugoslavia altro paese non allineato ma che comunque faceva parte dell'atmosfera del blocco centro orientale dell'europa centro orientale e molti di voi soprattutto degli utenti iscritti al mio canale sicuramente avranno svolto il loro servizio militare magari nei battaglioni degli alpini d'arresto o della fanteria di arresto alla soglia di igorizia in queste opere del vallo alpino l'opera che vedete qui nella copertina del libro è adesso io non ricordo il nome ma si tratta di un bunker nella zona del vallo alpino occidentale al confine con le alpi francesi una zona si può dire dove che il vallo alpino dell'ittorio trovò il suo vero impiego bellico con la breve guerra che vide contrapposto l'italia di mussolini con l'allora francia nel giugno del 1940 ora i ricercatori storici mauro minola e ottavio zetta che sono degli esperti per quanto riguarda gli studi delle fortezze militari al al confine italiano ci descrivono che le numerose opere fortificate che puntellano le valli e i versanti dell'intera catena delle alpi di confini italiane hanno fatto parte di un grandioso sistema fortificato che era stato concepito al fine di chiudere tutte le possibili vie di avanzata per un esercito invasore diretto alla pianura padana ovviamente parliamo di fortificazioni che risalgono ancora prima della realizzazione e progettazione del vallo alpino dell'ittorio perché se pensiamo ai forti sardi parliamo addirittura di opere fortificati campali o semipermanenti per questo vi invito sempre a vedere la conferenza di guerra all'italiana del professor giovanni cerino badone nel canale domus robica fortezze che appunto risalgono addirittura la prima guerra sulle alpi che risale appunto al 1796 è un periodo al quale io sono molto carente quindi sto andando a memoria se sto facendo degli errori vi prego magari di correggermi quindi il complesso fortificato solo nel 1940 ha preso il nome di vallo alpino dell'ittorio sebbene fosse nato una decina di anni prima con un fervido lavoro di preparazione di costruzione di fortificazioni grande e piccole sulle montagne di ogni valle alpina in effetti alcune opere del vallo alpino prenderanno cioè non prenderanno posto ma la linea cadorna come meglio è conosciuta verrà integrata all'interno del vallo alpino perché comunque insomma mancava i schietti mancavano le materie prime al quale il nostro disgraziato paese nel quanto molto povero e quindi molte opere venivano riciclate e rimpiegate come poi succederà con lo stesso vallo alpino dell'ittorio nel periodo della guerra fredda opere che verranno riattivate e ricondizionate con fondi messi a disposizione dalla nato dall'alleanza atlantica dove l'italia sotto forma di repubblica democratica ne aderirà nel 1948 quindi questo complesso di opere fortificate era composto da fortificazioni grandi e piccole sulle montagne di ogni valle alpina questo libro esamina i problemi delle fortificazioni di montagna e le vicende che hanno portato alla nascita del vallo alpino osservando nella rapida e tumultuosa evoluzione costruttiva in relazione agli altrettanto veloci progressi di mezzi e delle tattiche di attacco perché perché dopo il 1945 il panorama strategico mondiale era fortemente mutato entrarono in campo soprattutto nuovi armamenti e opere fortificate di questo tipo contro magari armamenti nucleari tattici potevano poco o nulla però ricordiamoci che il territorio italiano specie per quanto riguarda la parte nord dell'alta italia è un territorio alquanto infame per andare a scatenare una guerra di aggressione quindi pure un esercito potente ben armato e totalmente mobile meccanizzato dotato di numerosissime brigate corazzate come ad esempio l'esercito sovietico l'armata rossa del 1945 poteva avere grossi problemi ad andare a cozzare contro una opera naturale come può essere la catena delle alpi italiana tra l'italia il nord italia l'austria il foralberg la svizzera e la francia ci sono pochi pochissimi punti di accesso in italia che possono permettere ad un esercito invasore nemico di penetrare nella pianura padana e invadere il nostro paese la soglia di golizia è uno dei principali che però fu fortemente fu fortemente perdonate il gioco di parole fu potentemente fortificato il tarvisio il brennero la valcamonica la zona dove è avvenuto lo sfondamento nel settore dell'alto isonzo nell'ottobre del 1917 ad opera del della della quattordicesima armata austro germanica la famosa battaglia di caporetto come tutti la conoscono punto di sfondamento che già aveva visto napoleone alla fine del settecento come punto per poter penetrare nell'alta italia da nord non parliamo delle enormi difficoltà che ebbero gli eserciti alleati dopo che invasero l'italia continentale con l'operazione avalanche il 9 settembre 1943 perché il loro lento risalire la penisola italiana fu dovuto soprattutto alle difficoltà geomorfologiche che comporta la nostra penisola che piaccia o meno la verità è questa perché non non c'erano le autostrade non c'erano le comode tra virgolette vie di comunicazione che possiamo disporre tuttora gli alleati con il loro sherman non si potevano fermare l'autogrill bauli di rocco bilaccio a beversi il cappuccino con la brioche poter proseguire a fare la guerra era una situazione totalmente diversa c'era una buona rete stradale sì in italia antecedente alla seconda guerra mondiale però non poteva sopportare l'enorme quantità di automezzi e mezzi corazzati che disponevano le divisioni alleate e se volete un attimino andare a capire quello che vi sto spiegando vi invito a leggere il libro di eric morris la guerra inutile che fa una descrizione un'ottima descrizione della campagna d'italia svolta dal 1943 al 1945 e il libro scritto dal generale il tenente generale william jackson dell'esercito britannico la battaglia d'italia per lo stesso argomento continuando con la descrizione del libro si basa cioè il libro da un occhio di riguardo ai fatti storici di cui è stato protagonista la nostra linea fortificata questo fra il 1940 ed il 1945 e per quanto riguarda i settori soprattutto nord orientali quelli ritenuti più delicati all'importanza che ebbe poi nel contesto della guerra fredda soprattutto dal 1947 in poi perché vi ricordo pure che queste opere potevano entrare in funzione anche nel 1953 quando ci fu quella gravissima crisi diplomatica fra italia e l'allora jugoslavia di tito proprio dovuto alla questione di trieste non solo parlando di strutture e di manufatti ma anche di storie di uomini e delle loro imprese di giovani chiamati a presidiare queste opere e a difenderle ad ogni costo sacrificandosi per rallentare l'invasione nemica nell'attesa della mobilitazione delle forze armate sì perché questo serviva il vallo alpino dell'itorio originariamente durante il periodo del fascismo ma soprattutto poi durante il contesto geopolitico e strategico della guerra fredda una linea fortificata ormai vecchia ma che era che era perfettamente sfruttabile per un esercito come il nostro nato già dal 1861 per una guerra a scopo difensivo in un settore di montagna perché noi italiani quello sapevamo fare molto semplice il miracolo di caporetto basta vedere lo sfondamento che abbiamo subito nel settore dell'alto isonzo lasciamo stare il discorso di sciopero militare bla 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 eccetera eccetera spie infiltrazione tradimento e quant'altro ma quello che poi successe sul piave e sul monte grappa dove fu solo l'esercito italiano a contenere e non tutto sommato a fermare l'avanzata austro germanica che proveniva da nord est e da est non furono le divisioni alleate che comunque erano giunte ormai sul fronte italiano a fermare l'esercito nemico ma fummo solo noi italiani le divisioni anglo francesi attestate sul fronte italiano serviranno solo come riserva nel caso che il fronte italiano fosse stato di nuovo sfondato ormai da un'armata agonizzante e con la logistica tirata come poteva essere la quattordicesima armata austro germanica dopo lo sfondamento di caporetto questo volevo un attimino chiarire ma torniamo al alla descrizione del vallo alpino dell'ittorio il libro descrive tra l'altro anche la storia e la biografia di soldati della guardia alla frontiera corpo militare che prese vita durante il ventennio e che resterà poi attivo fino al 1943 faceva parte del regio esercito italiano poi con la costituzione della repubblica sociale italiana prenderà il nome di mi pare milizia confinaria avevano avevano praticamente il cappello alpino con l'unica differenza che non avevano la penna vi ripeto sto sempre dando a memoria se ho detto qualche minchiata siete pregati di correggermi nei commenti poi ma anche degli alpini del resto del dopoguerra e delle nuove unità di fanteria del resto che operavano solo in pianura e nel settore orientale della soglia di gorizia in quelle opere del vallo alpino orientale che verranno poi ricostruite da capo con la modifica di confini con dei confini orientali con la loro ex jugoslavia dopo la firma di trattati di pace del 1947 quindi alcune opere del vallo alpino orientale finiranno in territorio jugoslavo e di conseguenza verranno o demolite o riutilizzate dalle milizie confinarie dell'allora jugoslavia del maresciallo tito queste opere saranno presidiate vi ripeto dai battaglioni di alpini di arresto e dell'affanteria di arresto addirittura in alcune zone dotati di armamenti nucleari fino al 1992 quando ci sarà la dissoluzione prima dell'unione sovietica e poi dell'ex jugoslavia che forse per noi italiani era veramente il pericolo pubblico il pericolo numero uno per quanto riguarda un'invasione da parte di forze nemiche del territorio del nord est in attesa questo di un nemico che tranne in pochi casi non si affacciò mai davanti alle loro feritoie questi pochi casi li possiamo evidenziare nella guerra tra italia e francia del giugno 1940 che vedrà la capitolazione dell'esercito delle forze armate francesi travolte dalle divisioni moto corazzate tedesche con la firma del secondo armistizio di compiegne nel giugno 1940 poi ci saranno la penetrazione di forze tedesche a seguito dell'operazione axe che vedrà l'invasione dell'italia dopo insomma la firma dell'armistizio dell'otto settembre 1943 tra l'italia e le potenze alleate e poi come vi ho già citato in alcuni casi però la si tratta di forze partigiane al confine orientale che si può dire che dopo il 1943 fu il confine più caldo delicato di tutta la situazione politica e militare italiana tutto qua quindi io ragazzi ho voluto farvi questa piccola descrizione in un di un argomento che ho citato molte volte ma non ho mai ahimè erroneamente approfondito spero che il video sia stato di vostro gradimento poi si può approfondire su tutto insomma parliamo di una linea fortificata che va dal confine con la francia al confine ormai con slovenia e croazia bene quindi io ringrazio ancora l'amico guido per avermi dato una mano a recuperare questo libro con un anno e mezzo forse due di ritardo ma meglio tardi che mai in sti casi e dai io vi ringrazio per l'attenzione se il video vi è piaciuto like commentate iscrivetevi al canale anche se pubblico poco ma spero di riportare sempre argomenti interessanti e dal serenissimo è tutto ci vediamo a un prossimo video buonasera ciao 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 ciao